Un caro saluto a tutti e benvenuti in nostra compagnia con le immagini che arrivano da Milano San Siro. La partita è di quelle di primissima fascia, insomma di quelle importanti. Bravo Pierre che viene via, bravo Pierre che viene via, bravo Pierre che viene via, la porta via la grande Pierre. Ecco Pierre Caloulu, Pierre Caloulu per Rebic che la mette dentro, il tiro alto, la grande occasione del Milan, Cialanoglu. La palla si alza, come testa di Rebic è il gol, Ante Rebic, è tornato Ante Rebic a segnare un gol per il Milan, Ante, 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 Rebic, Ante, Rebic. Gol di testa, perfetto telecomandato il cross di Cialanoglu, l'inzuccata di Ante, Ante, porta in vantaggio i rossoneri. Caloulu, Caloulu fa partire Leao, Leao, scappa alle spalle dell'avversario Leao. Leao contro Luis Felipe, il tiro di Leao, la parata di Reina, bellissimo tiro di Rafa, bellissimo tiro di Rafa. Cialanoglu, il tocco è per Alexi che fa tunnel, Alexi fa tunnel, tunnel, libero Ante, Ante, sono alti al portiere, no, no, porta ancora vuota, si può fare, si può fare. La deviazione fuori, incredibile rigore, rigore l'ho visto, l'ho visto, a me è sembrato mani. Gol! 2-0 per noi, 2-0 per noi, 2-0 per noi. Cialanoglu dal dischetto, dal dischetto. Qui il rigore è stato trasformato in maniera esemplare da Can, con la sua balistica, la balistica del Ciala. Attenzione a Correa, Correa ha lasciato Tonali, Correa, il tiro di Correa a grande Cigio e la palla va in angolo. Richiama il tucco, Correa chiedono il rigore quelli della Lazio. Agli tocca al piede, rigore, Correa, parte immobile, Grigigio! Gol di testa di Luis Alberto, incredibile, l'aveva parato Gigio e poi Luis Alberto segna di testa. Non siamo stati veloci ad andare a riprendere la paura, è stato fortunato Luis Alberto. Palla messa in mezzo dalla Lazio, immobile, gol! Incredibile, incredibile, pareggia immobile. Vediamo cos'è successo, insomma una bella palla. Palla messa in mezzo, paratona di Cigio, colpo di testa di Luis Felipe. Meno male che non l'ha presa Luis Alberto. Rivediamo la parata di Cigio. I Aspetter allarga per Teo, Teo la mette in mezzo, Rebic, la parata di Reina è incredibile. Teo è stanchissimo. Teo è stanchissimo, ha servito Ciala, Ciala dentro, Ciala, Ciala, prova ad andare, Rebic, Rebic. La palla esce, la palla esce, la palla esce, la palla esce era buona ragazzi. Ecco Ciala, colpo di testa, ha segnato Teo, ha segnato Teo, è il gol del Santo Natale, è il gol del Santo Natale. Ecco che cosa c'era sotto l'albero, ecco che cosa c'era sotto l'albero, Teo Hernandez, ecco che cosa c'era sotto l'albero, ecco che cosa c'era sotto l'albero. Eccolo, eccolo, eccolo l'albero di Natale, eccolo, eccolo, Teo Hernandez, ancora Teo. Ancora Teo, ancora Teo. È finita! E siamo privi a Natale, e siamo privi a Natale! Buon Natale a tutti, buon Natale a tutti, buon Natale a tutte! Grazie a tutti.